La firma del contratto di consegna dello stadio è il primo atto dell'avvio del cantiere che in pochi mesi cambierà l'aspetto dell'Euganeo di Padova, che finalmente avrà almeno una curva, quella a sud. Questa stagione ormai è destinata a seguire le regole del Covid, ma dalla primavera tutti sperano che gli stadi si potranno tornare a riempire di tifosi e per quel tempo potrebbe già materializzarsi la nuova curva, che grazie a un sistema modulare salirà a tempo di record e avrà questo aspetto. Assieme ad altri due palazzetti per lo sport di squadra e di base che parimenti ora sono fermi per rispettare il distanziamento. Non trattengono la gioia il sindaco e l'assessore del comune di Padova, entrambi rispettivamente ex presidente ed ex centrocampista del calcio Padova. Pena fiducia anche al social calcio Padova sta facendo bene e sono soddisfatto. Ricordo che c'è anche due palestre, come ha detto Diego, due palestre dietro. Una è la casa del basket, non avevano palestra, utilizzavano un po' un po' una palestra polifunzionale. Per cui un'operazione molto importante. Però l'altro impegno sarà trovare i finanziatori per fare le altre curve. Non è facile, però ci impegniamo. Tanto è importante un pezzo alla volta cercare di migliorare tutto lo stadio. Non è così brutto come sempre si dipinge. Ho visto cose peggiori in giro, ragazzi. Per cui per fortuna ce le abbiamo. Voglio vedere se non ce le avessimo cosa faremo. I lavori affidati alla società romana Estella è la stessa che ha realizzato la copertura dell'Olimpico. La curva sarà coperta, conterà 26 gradoni e 3.300 posti. Sui corpi laterali, al momento vuoti, insisteranno anche due strutture dove ospitare un ristorante o un museo. E si pensa già anche a rifare le tribune, ampliando nella capacità 10.000 posti l'una, portando la capienza dell'Euganeo a 25.300 posti, con un secondo anello che arrivi spiovente sul campo, superando anche l'ostacolo della pista d'atletica. Ma questi, al momento, sono ancora sogni. Curva Nord, che è il mio prossimo obiettivo, deve essere un obiettivo concreto per tutto quello che ho detto prima. Però è chiaro che quello è il futuro. Non vedo l'ora che arrivi la prima decade di gennaio, come mi è stato detto, in cui cominceranno materialmente i lavori. Saranno dei lavori, inizialmente, di canterizzazione e poi cominceremo i lavori di scavo, cominceremo i lavori di realizzazione della curva, dei due palazzetti. Insomma, io confido molto che per il prossimo campionato, veramente, avremo tutto pronto per iniziare con uno stadio parzialmente nuovo.